Allora siamo con Adria Català, Adria il gol di Max, volevo chiamarlo Max Fontiel ma lo chiamo Tiel Le tue parate aprono ufficialmente un po' una crisi qui in casa Valdagnese Sandrigo però porta a casa tre punti importanti, Scavalca Valdagnese in classifica da quello che mi ricordo da 9 a 12, Valdagnese resta 11 è comunque una grande prestazione di squadra, ho detto un primo tempo giocato al piccolo trotto ma secondo tempo è decisamente più pimpante e alla fine 2 a 0, 2 a 2, 3 a 2 è stata anche una bella partita Sì sì sicuramente come dici te, il primo tempo è stato un po' così così secondo tempo con i nostri gol abbiamo riaperto la partita, il Valdagnese ha spinto ha tantissima qualità al di là della classifica, per me è uno squadrone sono sicuro che alla lunga andranno su anche se noi abbiamo adesso Scavalcati o così non è importante, per noi erano importanti i tre punti al di là della classifica stiamo venendo da una serie positiva sicuramente noi abbiamo giocato un gran primo tempo il secondo abbiamo trovato i due gol, il Valdagnese ha spinto, ci ha raggiunto e abbiamo vinto con un gol un po' fortunoso Beh io ho detto che Max D è lì, ha trovato un colpo da 88 basso lì Sì sì sì, poi lui a volte ha questi tiri che nessuno si aspetta così ci ha dato tre punti sicuramente e questo è l'importante per noi Bene, grazie mille Adrià in bocca al lupo per il tuo Sandrigo a presto, ciao grazie